Ci troviamo dopo un po' di tempo, intanto la prima cosa è che trovarsi qui a parlare di calcio, di programmazione è che abbiamo quasi superato questa crisi sanitaria. Sì, diciamo che si vedono degli spirali di ripartenza, siamo contenti di potersi ritrovare qui al campo con tutti i ragazzi, programmare la stagione che verrà, quindi ci sono tutti i buoni presupposti per riprendere nel miglior modo possibile. Anche perché voi siete resoci da un successo davvero importante, quel tricolore che vi deve riempire d'orgoglio. Ho avuto il piacere e l'orgoglio di poter partecipare a questa stagione incredibile, la scorsa stagione che ci ha portato appunto alla conquista dello scudetto di Primavera 3 e quindi diciamo che abbiamo una bella responsabilità ma siamo qui apposta per lavorare, per cercare di portare sempre in alto il nome dell'Arezzo. La pandemia da una parte e l'opportunità di far parte dello staff tecnico della Juniors Nazionale dell'Arezzo probabilmente ti hanno convinto, tra virgolette, di appendere le scarpette al chiodo. Sì, diciamo che le scarpette al chiodo sì, però la passione rimane sempre la stessa, nel senso ho intrapreso questo percorso quest'anno passando dall'altra parte dello spogliatoio, diciamo così, però sì, come giustamente ha detto lei, ho avuto questa opportunità di continuare a far parte di questo staff e di questa società e quindi sono molto orgoglioso. La squadra che immagino che è quasi cambiata in maniera radicale, dopo una settimana di lavoro come svaluti questo gruppo? Ma diciamo che ancora ci sono tante situazioni da valutare, tanti ragazzi da valutare, siamo qui apposta per lavorare, cercare di rendere nel migliore dei modi. Anche perché portare quel macchio sulla maglina sicuramente riempie d'orgoglio tutti. Sì, sì, è sicuramente una cosa molto importante, ecco. Quanto riguarda il lavoro a livello di staff tecnico, come vi siete organizzati? Siamo uno staff che lavora a 360 gradi, nel senso che ci interviamo bene con il lavoro tra fisioterapista, preparatore atletico, preparatore dei portieri e il mister, quindi diciamo che facciamo quotidianamente riunioni tecniche per cercare di ottimizzare il tempo con i ragazzi e i lavori per cercare di farli rendere al meglio. E quindi adesso un po' tutti, i ragazzi da una parte e voi dall'altra, dovete cominciare a sudare, a far sudare questa maglina per arrivare pronti all'inizio del campionato. Sicuramente. Grazie. Grazie a voi.